Buonasera e bentornati a Millibar. Questa sera continuiamo con la disamina delle questioni regionali che tengono stretta questa regione, il Molise, in una morsa dalla quale sembra impossibile uscire. Si parla tanto se il Molise esiste o il Molise non esista. In realtà noi abbiamo fatto un titolo particolare questa sera, il Molise è finito. Perché questa affermazione, partendo da due questioni, ce ne sono tante ma ci sono due questioni centrali sostanzialmente, lavoro e sanità. Sanità e lavoro sono queste le due caporetto del governo regionale, i due temi che sono avvertiti dalla popolazione, dalla cittadinanza, come il fallimento totale di questa amministrazione regionale. Con chi ne parliamo questa sera? Parliamo con due combattenti che sono qui per la prima volta a Millibar, insieme a me, insieme ad Antonio D'Ambrosio, che è una presenza consueta, che con le sue analisi, le sue opinioni, le sue disamine, ci aiuta anche a comprendere, ad approfondire molti fenomeni di questa regione. Ma vi dicevo, ci sono due combattenti con noi stasera. Do il benvenuto a Pasquale Guarracino, della Will, protagonista di Infinite Battaglie. E do il benvenuto a Luca Praitano, consigliere comunale al Comune di Campobasso per il Movimento 5 Stelle, che è una delle figure più attente e più attive per quel che riguarda la questione sanità. Come di consueto, però, andiamo a guardare subito la nostra scheda che ci introduce all'argomento di questa sera. Ci sono immagini che valgono più di milioni di parole. Parlano da sole, come ad esempio quella di due operai in cima ad una gru, nell'atto di cancellare una scritta che ha rappresentato per quasi mezzo secolo pane e prosperità per intere generazioni. La scritta Zuccherificio del Molise, coperta con un sudario di vernice bianca, se ne è andata pochi giorni fa e con essa, simbolicamente, se ne sono andate le vite di operai, avventizi, agricoltori, trasportatori, famiglie, giovani universitari che con la campagna estiva si mantenevano agli studi e tutto quel mondo che viveva grazie alla filiera saccarifera. Una serie di errori che vengono da lontano, ma a cui ha dato una mano determinante l'attuale classe politica, hanno spento definitivamente quella storia. Come lo Zuccherificio, in Molise si spengono ogni giorno altre aziende nella totale incapacità manifestata dal governo regionale di governare processi complessi di trasformazione. L'unica logica che sembra animare il Molise di tutti, quello dello slogan sotto il quale il presidente della regione Paolo di Laura Frattura si è rappresentato, è quella dei tagli. E qui le immagini si spostano dall'inverno termolese bardato a lutto dalla morte anche visiva dello zuccherificio alla primavera campobassana di un anno fa. 18 maggio 2016, per le strade del capoluogo va in scena la più grande manifestazione popolare che il Molise ricordi. Quel giorno scendono in piazza migliaia di persone per dire no alla riforma del servizio sanitario regionale voluta da Frattura, una riforma a lacrime e sangue basata soltanto su due verbi, tagliare e trasferire. Tagliare tutto il possibile, compreso i pannoloni a disabili e anziani, e trasferire tutto il possibile in mano ai privati. Sono mesi che va avanti una pervicace opera di demolizione del sistema sanitario pubblico, trasferendone quote sempre più massicce a favore del privato. L'ultimo esempio in ordine temporale è la chiusura del reparto di neurochirurgia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Una logica quella di Frattura, tanto sul piano delle politiche industriali quanto su quello delle politiche sanitarie, tesa sostanzialmente a staccare la spina a tutte quelle situazioni complesse che invece il centro-sinistra al governo aveva promesso, seppur in campagna elettorale, di sbrogliare. Quello di provocare il decesso di tutte le cose che non vanno è, evidentemente, la strada più facile. A poco vale, dopo quattro anni, l'alibi non più sostenibile dei disastri causati dagli altri, da chi c'era prima. Molte situazioni ereditate da Frattura erano già seriamente compromesse, ma chi riceve una casa lesionata ripara la crepa e non bombarda la casa come invece ha fatto l'attuale governatore. Grazie a tutti! Ecco, questa era la nostra scheda montata in maniera magistrale da Alessandro Nardella che voi non vedete, ma che io continuo a dire che se non fosse per la sua presenza questa trasmissione non sarebbe mai esistita. Ecco, con questo doveroso omaggio al nostro tecnico abbiamo visto le immagini emozionanti di quel 18 maggio, non sembra nemmeno il Molise, tutta quella gente in piazza a protestare per la sanità pubblica, in difesa della sanità pubblica, quindi vuol dire che ci sono degli anticorpi, anticorpi ci sono in quel caso e ci sono stati per la questione sanitaria, ma la nostra scheda si è aperta con un'immagine terribile, lo sbianchettamento letterale della scritta Zuccherificio del Molise. Quella scritta è stata per molte persone, prima ancora che tatuata su un muro, tatuata sul cuore di tanti lavoratori e di tante famiglie che hanno lottato per quello stabilimento, che grazie a quello stabilimento hanno vissuto, cresciuto figli, mandati all'università, sono diventati a loro volta questi figli professionisti e sono diventati in taluni casi anche operai di questo stabilimento che ha chiuso e ha chiuso per sempre, emblema, ennesimo di un fallimento regionale. Purtroppo la storia dello zuccherificio è accompagnata da tanti altri disastri, spesso nominiamo GAM, nominiamo ITR, ce ne sono tantissime di questioni aperte sul territorio regionale. Allora Pasquale Guarracino, lei è un sindacalista, ma un sindacalista di quelli in prima fila, il governo regionale sta fallendo sulle politiche industriali e sulle politiche del lavoro. Ricordiamo ai nostri telespettatori che da gennaio 2016 che la regione Molise non ha più un assessore al lavoro. Lei che idea si è fatto e quali possono essere gli eventuali correttivi? È complicato oggi dopo aver visto anche queste immagini che ricordano non essere le uniche. Ormai il Molise vogliono farci credere che non esiste, ma in buona sostanza esiste. La marcia per il lavoro di qualche anno fa è stato un fatto eccezionale per questa regione e tante sono le proteste che quotidianamente si fanno. e ormai non passa giornata senza vedere un presidio, senza vedere una contestazione, senza vedere un'occupazione. Ormai esiste, è un fatto che fa parte ormai della società, è socialmente presente nella nostra giornata quotidiana. Questo è soltanto uno degli ultimi, un pezzo, ma uno degli ultimi pezzi brutti, delle storie brutte che viviamo in questo spaccato politico. Sicuramente fa parte, viene dal passato, è stato detto anche bene nel servizio. Molti sono gli errori che sono stati fatti nel passato. A questo governo si è data l'opportunità, tutti abbiamo creduto all'opportunità, di poter cambiare le cose. Mentre invece vediamo che le cose effettivamente sono cambiate, ma sicuramente in peggio. Eravamo convinti davvero che il fondo del barile ormai in qualche modo era la schiava, non è stato così. Ci ha dimostrato la politica regionale di saper fare molto peggio di quello che è stato fatto per il passato. Anche perché io faccio una considerazione. Governare sicuramente è un fatto difficile. Dover mettere in fila cose, questioni in una regione come la nostra, è sicuramente un fatto difficile. Però scientificamente è dimostrabile che in tantissime vertenze che ormai sono aperte, una, devi avere la capacità di risolverla. Se non hai la capacità di risolvere nemmeno una vertenza, vuol dire che questo non è il mestiere che ti si addice. Vuol dire che non sai fare quello per cui vieni pagato fior di migliaia di euro tutti i mesi. Ed è un fatto secondo me gravissimo. Ormai, cioè noi ne vediamo tantissime di scene di disperazione. È impensabile rendersi conto che anche lo zuccherificio, che sicuramente viene da errori gestionali precedenti, invece che trovare delle soluzioni vere, invece che tentare il più possibile anche di convertirlo in qualcosa che ha a che fare sicuramente con la filiera dello zucchero, ma anche con altro, che era un progetto di qualche tempo fa che sembrava essere un progetto condiviso da tutti. Poi mi riferisco a Pasini, giusto per essere estremamente chiaro. E poi arrivato a un certo punto, invece non si capisce per quale motivo strano, è sparito dalla circolazione il dottor Pasini, portandosi via le sue idee, portandosi via quello che magari poteva realmente fare, e adesso il risultato è che abbiamo chiuso anche lo zuccherificio di Termoli. Poi del resto, voglio dire, noi siamo in ballo e continueremo a ballare con una grossa difficoltà a monte. Siamo senza l'assessore al lavoro dal 2016, verissimo, anche se tra opposizione e governo la differenza è sostanziale. In opposizione, quello che poi è stato l'assessore al lavoro, cioè il consigliere regionale Michele Petraroia, anche lui pareva avere soluzione a tantissimi problemi. quando è stato invece al governo seduto alla poltrona dell'assessore al lavoro, ben riconvenzato come tutti gli altri, beh, non è riuscito a risolvere le pertenze in maniera evidente e siamo qui ancora oggi a protestare per l'ennesimo eccidio, per l'ennesima dimostrazione di incapacità. Quindi che facciamo? Quindi facciamo una cosa semplicissima. Oggi siamo... Le faccio una domanda cattiva. Petraroia era un suo collega, nel senso che viene dal sindacrato, è stato segretario regionale della CGL. Presumo che avesse le competenze giuste per affrontare e incanalare le varie vertenze. mi sorge il dubbio che qualcuno lo abbia fermato. È una mia supposizione cattiva oppure è un fatto che voi sindacato avete proprio riscontrato operativamente nella mancanza di idee e di soluzioni nonostante aveste di fronte un sindacalista? Beh, probabilmente la verità potrebbe essere nel mezzo, ma questo dovrebbe avere la volontà e la correttezza di dirlo il consigliere regionale Petraroia, che hanno un certo io, che non conosco le dinamiche interne delle loro strutture. Lo dico perché agli atti, mi scusi se la interrompo nuovamente, agli atti del consiglio regionale io ne sono stato testimone un intervento soltanto di due settimane fa, non martedì questo, martedì scorso, un intervento, come dire, fragoroso di Michele Petraroia su tutte le questioni aperte parlando soprattutto di gum e di zuccherificio che sembrava di assistere ad un comisio in piazza insomma con migliaia di persone forse l'andare al governo annacqua anche le figure più volenterose. Immagino di sì, onestamente, perché può essere che da un lato ci sia stato cioè c'è un presidente della regione che ritiene di non dare priorità alla questione del lavoro e poi dovrebbe spiegarci una volta per tutte qual è la priorità di questa regione perché la filiera dello zucchero no, la filiera vicola speriamo che dopo vedremo insomma speriamo di avere trovato qualche soluzione ma al momento no, il commercio no, il turismo no io vorrei ben capire a che cosa punta questa regione però detto questo è chiaro che il consigliere Petraroia avrebbe sicuramente avuto la possibilità quando era assessore di poter fare determinate cose poi se i sindacati chiedono incontri e non ci convochi nemmeno per dirci non posso fare niente il problema vuol dire che quindi è di altra natura non è soltanto di un aspetto politico di cattiva gestione più in generale oggi a differenza di qualche tempo fa ahimè, e questo non credevamo almeno noi di sinistra non credevamo mai che si sarebbe potuto arrivare a questo il governo di centro-sinistra è un governo che non dialoga è un governo che non spiega le questioni è un governo che tiene tutto in maniera segretata è un governo che non convoca nemmeno per le vertenze prima c'era il buon uso di chiedere il tavolo all'assessorato del lavoro che aveva la cortesia di invitarti e di aprire appunto un tavolo per una discussione insomma sull'eventuale problema noi su tantissimi temi ci abbiamo provato tranne se non è oggi la questione della cassa integrazione dove c'è per forza da dover fare un passaggio burocratico in termini di carte con quegli uffici e con i dirigenti che fanno parte di quegli uffici per il resto non c'è assolutamente nulla che è un fatto vergognoso ma immaginiamo che nella sanità o in tanti altri settori dove si parla di modifiche, di cambiamenti di quello che succede e poi lo vedremo anche nel corso della trasmissione con gli altri compagni ma immaginate che non è stato fatto un solo tavolo per i servizi nella sanità eppure mi sembra che Sosto abbia le necessarie competenze in termini di sanità perché dove è stato nelle precedenti gestioni Sosto ricordiamo il direttore generale dell'ASREM dove è stato ha puntato molto sul discorso della sanità sul discorso dei servizi qui non accade qui non riesce la regione molise perché effettivamente chi convoca cioè chi è il tizio politico che deve dare gli indirizzi alla struttura tecnica manca Ecco, e su questo ci fermiamo per adesso e poi rientreremo su quello che è l'indotto della sanità che risente di tutte le crisi in corso perché non sono soltanto i malati che pagano Dazio ma anche tantissime altre situazioni e passiamo all'altro ospite a Luca Praitano che ripeto è una forse delle figure più informate in questa regione su quello che sta accadendo ha studiato le carte le ha studiate anche con attenzione e con profitti innanzitutto Praitano che effetto le fanno quelle immagini del 18 maggio perché l'impressione è che il forum di cui lei fa parte si sia un po' seduto dopo quella manifestazione abbia rallentato la sua azione ma quello che interessa soprattutto è quello che sta accadendo l'episodio di neurochirurgia prima chiusa poi riaperta a metà in fase di chiusura definitiva è solo l'ultimo degli episodi grotteschi che ruotano attorno alla sanità ma che di fatto poi vanno ad incidere sulla salute e perdonatemi l'espressione gergale sulla pelle dei cittadini a lei chiedo quindi di fare un quadro generale che ci possa introdurre su quello che sta accadendo compreso questo progressivo trasferimento di quote della sanità pubblica in favore del sistema privato grazie buonasera a tutti io comincerei con la premessa quella sul forum il forum diciamo che è sempre stato comunque attivo anche dopo l'amministrazione del 18 ci sono state diverse riunioni del comitato che ha seguito con molta attenzione quelle che sono state le fasi successive promosse dalla struttura commissariale è di questi giorni l'interesse per andare anche in tribunale e portare questo atto aziendale recentemente adottato approvato con un decreto del commissario ad acta del numero 7 del 2 di febbraio quindi diciamo l'attività del forum non è finita è ancora in corso è vivace e prenderà sicuramente maggiore vivacità nei prossimi tempi sono delle iniziative che si faranno poi insomma renderemo comunque notizie a tutti i cittadini per rendere massimo la partecipazione e fare di questo forum un centro di aggregazione e di dissenso rispetto a una idea di sanità che assolutamente non si condivide riguardo a questo provvedimento di neurochirurgia cioè della chiusura della neurochirurgia del reparto di neurochirurgia all'interno del cartarelli ai più può risultare una sorpresa ma di sorprendente c'è ben poco perché di fatto era già previsto all'interno dell'atto aziendale poi magari le persone credono che quello che viene scritto non viene attuato quando si grida che si sta attuando la distruzione della sanità regionale a pezzi appunto in alcuni ambiti con trasferimenti nel settore privato poi quando avviene si grida lo scandalo insomma se ci fosse un'attenzione nel corso probabilmente chi opera adotterebbe dei provvedimenti un po' più cauti diciamo così è grottesco io vi faccio una domanda secondo voi è normale rispetto a questa chiusura di neurochirurgia che a seguito del provvedimento c'è stata questa indignazione per cui il Presidente ha ritenuto opportuno fare un comunicato in cui diceva no è tutto a posto è previsto che per i molisani i servizi saranno garantiti nelle stesse ore negli stessi minuti chi ha emesso quel provvedimento pensava di tornare indietro cioè di emettere un nuovo provvedimento e dice abbiamo scherzato guardate è meglio che aspettiamo a fine mese perché evidentemente non ci sono le condizioni questo è emblematico soprattutto di una cosa che è l'elemento un po' il collante di tutti quelli che provano di senso rispetto alla programmazione di frattura cioè il fatto che si voglia operare dei tagli ai reparti diciamo alla sanità pubblica dei tagli senza aver previsto dei percorsi garantiti di cure ai cittadini morisani e questo è il caso della neurochirurgia dove probabilmente si sono resi conto che il cittadino ha bisogno di cure neurochirurgiche probabilmente dal giorno 15 dal giorno successivo al provvedimento si sarebbe trovato nella condizione di non avere quello di cui ha bisogno cioè appunto delle cure sarebbe dovuto andare fuori regione con tempi troppo diluiti troppo lunghi per poter ottenere delle cure adeguate e qui non stiamo parlando diciamo di cose frivole stiamo parlando che c'è il discorso tra la vita e la morte insomma ma scusi Praetano questo giustamente lei ha detto un discorso grottesco ma è addirittura paradossale poiché noi siamo andati a prendere delle figure addirittura da fuori regione ricordiamo perché Praetano dice chi ha emanato il provvedimento poi lo ha ritirato stiamo parlando del direttore generale dell'Asdrem del direttore amministrativo e del direttore sanitario tre figure insomma pagate a diverse decine di migliaia di euro centinaia forse di migliaia di euro dal sistema sanitario regionale dalla regione molise che poi producono documenti a dir poco o contraddittori oppure che fanno appugni con quello che dice il presidente della regione la critica e torno le lascio la parola la critica principale se ricordo bene fatta dal forum è questa prima si organizza la medicina sul territorio poi si chiude e si taglia dico bene assolutamente sì perciò dicevo questo è un provvedimento emblematico perché vale un po' per tutte le cose sicuramente la sanità molisana sarebbe disonesto indirettualmente dire che va tutto bene non è così ci sono dei correttivi da fare ci sono sicuramente delle risorse da organizzare meglio insomma perché ci sono molti sprechi sicuramente chi ha organizzato la sanità in passato non ha tenuto troppo in considerazione quella che era la salute dei cittadini ma forse ci siamo resi conto che avere a porti sei ospedali forse non ce lo possiamo permettere il problema è che non è tanto l'ospedale in sé quanto il servizio al cittadino cioè oggi se togliamo l'ospedale di dove c'è e tu vuoi toglierlo prima di togliere quell'ospedale tu devi portare l'equivalente di quello che l'ospedale oggi ti dà cioè delle garanzie è quello che purtroppo non c'è anche nel cronoprogramma è questo provvedimento che è figlio esattamente di questa di questa scarsa considerazione della tempistica per cui tu prima garantisci e poi eventualmente togli lì dove devi togliere perché per la neurobiologia si apre tutto un mondo nel senso è opportuno non è opportuno io se ho il tempo per dirlo dire insomma argomenterei questo aspetto la neurochirurgia leggevo anche nelle considerazioni di frattura è una specialità che secondo il decreto Balduzzi è previsto che ci sia in territori con almeno 600.000 abitanti questo è vero e c'è una ragione tecnica perché si ritiene che se la casistica è bassa cioè ci sono pochi casi i medici diciamo non sono abbastanza preparati per fornire questo tipo di prestazioni ma è una considerazione che va presa va presa con le pinze nel senso che ci sono situazioni quella è una legge nazionale noi sappiamo benissimo che ha studiato un po' di diritto sa che esiste il principio della generalità delle leggi cioè fondamentalmente non è che va a vedere i casi specifici ma a vedere quello che è il contesto generale in una situazione peculiare come quella del Molise probabilmente ci sono delle contraddizioni in sé rispetto tra le discipline tempo dipendenti e questi bacini di utenza motivo per cui probabilmente Balduzzi andrebbe rivisto tu che sei il presidente della regione e che hai un ruolo politico prima che tecnico nelle dovute sedi hai l'obbligo di portare queste questioni ti è richiesto altrimenti non si spiegherebbe perché come in passato si scegliesse di nominare commissario ad acta proprio il presidente della regione per avere una legittimazione popolare rispetto a questa carica non solo quella di tecnico altrimenti facciamo a meno di andare alle votazioni non eleggiamo nessuno mettiamo i direttori generali e facciamo governare a loro e su questo ci fermiamo perché è un discorso da riprendere e da approfondire dicendo questo che quando si è trattato di discutere sul decreto Balduzzi se non erro il nostro presidente di regione alla conferenza stato-regioni non si è nemmeno o al tavolo tecnico la conferenza stata-conferenza stato-regioni non si è nemmeno presentato Antonio D'Ambrosio abbiamo sentito da Guarracino prima e da Praetano adesso un quadro a tinte fosche per il mondo del lavoro per il mondo della sanità uno degli alibi preferiti dagli attuali governanti è quello della pesantissima eredità del passato ora qui non si vuole certamente negare la responsabilità di chi ha governato negli anni precedenti ma un alibi che non regge più è di questi giorni un intervento pesantissimo dell'ex assessore alla programmazione della regione Molise Gianfranco Vitaliano il quale dice che la responsabilità politica è nel presente ed è difficile negare questo aggiunge Vitaliano sia sul fronte lavoro sia sul fronte della sanità bisognava andare a Roma e alzare la voce alzare la voce significa avere autorevolezza per poterlo fare una delle principali lacune di questa classe dirigente attuale mi sembra proprio sia questa l'assenza di autorevolezza oltre all'assenza di tantissime altre cose tra cui la progettualità è una analisi quella di Vitaliano che tu ti senti di condividere mi devo anch'io complimentare con i due amici e compagni di viaggio i nostri giovani la speranza Pasquale come dire rappresenta un punto di riferimento per le lotte sindacali e per l'emancipazione dei lavoratori a tutela dei posti di lavoro della loro degnità e del lavoro spesso questa bandiera si era abbassata quindi io me ne compiaccio per il lavoro che fai ti seguo con molta attenzione trovo qui l'occasione per dirlo perché non solo perché è di un ricordo di un mio passato da ex sindacalista e perché quella è una funzione essenziale dal mio punto di vista perché mette in campo un altro punto di vista all'interno di un contesto di una comunità così come Luca una competenza un suo impegno sociale civile rispetto ad alcune battaglie che sta conducendo è un punto di vista che deve essere tenuto conto perché quello che diceva l'ex assessore Gianfranco Vitaliano è un aspetto che ci deve far riflettere io credo che la caduta sta nel metodo la caduta vera sta nel metodo che questa maggioranza ha messo in campo nella gestione dei problemi e non è facile per la crisi generale non era facile per l'eredità però si è candidato e ci si è candidati con un progetto di soluzione sapevamo quello che si trovava di fronte a questa consapevolezza la risposta è stata insufficiente perciò credo che se Vitaliano dice è dell'oggi la responsabilità e io credo che in parte c'è ragione perché oramai abbiamo fatto tre anni no? andiamo superando andiamo quattro anni abbiamo quindi quattro anni tra un anno esatto si vota non è che è arrivato così all'improvviso c'è stato quattro anni di avere la possibilità di mettere in gioco quel progetto e con chi? con la comunità lui dice non siamo stati mai convocati la concertazione quindi la partecipazione democratica degli altri rappresentanze di interessi non sono stati mai convocati ma come fanno allora gli amministratori si credono padri eterni che sono illuminati da qualcuno o è arroganza o è incapacità a comprendere che esiste un altro modo un altro modo di interesse perché certe volte io me lo pongo questa cosa perché anche quando ci parlo io penso che mi prendevano in giro invece non capiscono questo è il dramma mi aspettavo io forse mi sta prendendo in giro con il suo figlio no poi mi sono accorto io ho detto anche agli altri non insistete non capiscono cioè non capiscono un dramma un problema questo è uno degli aspetti francamente preoccupanti e né si circondano né tentano di trovare all'interno delle rappresentanze nella società quelle istanze in modo che possa aiutarle si diceva un vecchio proverbio molissano di ascoltare sempre tutto che è pure uno scemo che apre la mente e invece noi vediamo che ma non è solo molissano questo aspetto attenzione è una novità di una generazione che ha avuto un approccio con la politica e ritiene che il mandato che ha ricevuto dai cittadini non è più come dire messo in discussione se non alla scadenza di quel mandato è il dramma totale quando Renzi dice per rimanere nell'attualità dice se facciamo il congresso però se vingo oh basta gli dice alla minoranza ma che razza di ragionamento è questo li hai cacciati dal governo li hai cacciati nella gestione del partito li hai cacciati nelle nelle opportunità di esprimere quell'opinione di Valetti di queste persone che sono delle risorse all'interno del tuo partito e dice poi vi dovete stare zitto ma che comunità è questa cioè cosa organizziamo Togliatti aveva secchie dentro il suo partito e secchie era per la rivoluzione armata Togliatti no Berlinguer aveva i suoi cruci aveva Ingrao dentro la segreteria non è che diciamo una parte adesso ho vinto e gioco la mia partita la comunità politica per l'interesse generale non funziona così e credo che il limite oggettivo è questo io però mi chiedo perché è uscito questo ed è un dilemma ed è un dilemma perché è vero che a volte sotto certi aspetti non capisci però ti viene il dubbio ma perché quel agosto del 2015 della regione Molise lì al tavolo della conferenza tra state e regione e il Molise non c'era l'unica regione e perché si sono distratti perché sono andati al mare lo dobbiamo credere noi a questa cosa o non ci sono andati o non ci sono andati perché vedete ribalta il rovescio l'aspetto che dicevo prima che non capiscono non capiscono gli aspetti che di raccogliere dal basso che può mettere in discussione anche il loro potere però sanno gestire il potere e lo sanno gestire incanalandolo in certi sentieri forse stanno avanti sotto questo aspetto rispetto anche all'analisi che facciamo noi del comitato del forum sulla sanità sui lavoratori perché è talmente impossibile che non ci si renda conto che la metodologia è affrontata per le dismissioni per esempio delle aziende senza avere un progetto di gioverno della dismissione cioè noi avevamo uno zuccherificio che aveva un valore ultimo di 120 milioni di euro oggi è uguale a zero allora quando abbiamo perso avevamo un marchio che aveva un valore in quattro anni arrivando con questi ritardi con questa metodologia cosa abbiamo perso oltre agli aspetti occupazionali al PIL alla crescita oggettiva e chiudo devo fare un appunto di un altro aspetto che mi ha colpito in questa settimana proprio sulla chiusura dello zuccherificio che è relativo al fatto che la regione non fa lo zucchero non fa i polli sembrerebbe che chi difende quel posto di lavoro sta difesa come dire di un interesse particolare e voglio solo ricordare per la storia naturalmente che la regione ha le partecipate non è una novità la carta costituzionale dice che è possibile lo statuto della regione dice che è possibile avere le partecipate perché sono attività strategiche ed è stata pensata negli anni 60 e 70 per dare una risposta strategica ad un ruolo a questa regione ora capisco dobbiamo mettere in crisi cosa? la incapacità di saper governare questi processi come classe dirigente ci sto degli sprechi ci sto delle ruberie ci sto ma dire ai lavoratori chiudo perché io lo zucchero non lo faccio ma la settimana prima portarli a sbattere le mani al ministro dell'agricoltura a Termoli perché lì c'era la risposta è stata una visione francamente di un profilo bassissimo questo a portarli a spasso a quei lavoratori a illuder farli incontrare col ministro che dichiarava disponibilità dichiarava opportunità non è successo niente e insomma un po' di ritegno ecco le parole pesano specialmente perché è disoccupato perché ha una famiglia pesano assai illudere queste persone ecco quindi chiudendo la nostra diciamo valutazione dove sei incamminato il Molise è finito e il Molise il suo declino oramai è certo la sua deriva è certa perché i due punti fondamentali il lavoro e i servizi sanitari sono alla morte e non è servito e torneremo credo a parlare dell'ultima conferenza della presentazione dei piani operativi che voglio dire c'è da discutere francamente e ne parleremo bene si chiude qui la nostra prima parte di Millibar insieme a Pasquale Guarracino della Will Luca Praetano del Movimento 5 Stelle Antonio D'Ambrosio stiamo discutendo ci stiamo ponendo un quesito il Molise è finito in realtà stiamo parlando di lavoro e di sanità due pilastri di qualsiasi società che in Molise sono definitivamente minati per cui la disamina che c'è stata in questa nostra prima parte è stata oggettivamente a tinte fosche facciamo una breve pausa pubblicitaria poi torniamo in studio bene eccoci di nuovo in studio qui a Millibar dallo studio di Termoli di Telemolise a parlare di sanità e lavoro Pasquale Guarracino lei ha fatto un'affermazione molto forte molto dura molto impegnativa ma altrettanto vera non è stata risolta una sola vertenza quelle in corso appaiono le soluzioni in corso appaiono più che altro dei giochi di prestigio dove poi alla fine come spesso diciamo oltre a sparire il coniglio questa regione fa sparire pure il cappello e nel cappello ci sono i lavoratori si parla di GAM si è parlato di una possibile soluzione intanto i lavoratori e i sindacati chiedono con forza che venga trovata una soluzione per tutti i 280 lavoratori della gamma invece si parla di numeri esigui e di tempi lunghissimi per lo zuccherificio si sono illusi Antonio D'Ambrosio l'ha ricordato questa è una cosa gravissima i lavoratori dello zuccherificio del Molise li abbiamo visti ci sono le immagini applaudire al ministro Martina in campagna elettorale per il sì al referendum costituzionale in quella sede sono state fatte delle promesse che sono state seguite da altrettante marce all'indietro si parla vagamente di formazione ma la formazione avviene a fronte di un progetto chi formiamo se non sappiamo in quel sito cosa andrà a finire che cosa eventualmente si produrrà allora la domanda è questa anche laddove questa regione in qualche modo ha cercato di individuare delle soluzioni l'impressione che a questo punto è più di un'impressione ma una certezza è che si sia sostanzialmente buttato fumo negli occhi dei lavoratori per una incapacità a questo punto conclamata è difficile uscire da questa situazione il sindacato ancora e in che termini può incidere ma noi intanto speriamo di incidere fortemente anche in termini di opportunità perché oltre a fare le proposte che ormai facciamo ti ringrazio per le belle parole che hai avuto nei nostri e nei miei confronti qualche volta proviamo pure a fare proposta poi del resto fai fatica quando il tuo interlocutore in tutte le vertenze che ci sono state di rilevo regionale alla cronaca di questi ultimi tempi il nostro interlocutore cioè il presidente della regione puntualmente la prima frase che dice è noi non lasceremo nessuno a casa noi aiuteremo tutti quanti noi non ci dimenticheremo di nessuno noi risolveremo questa cosa l'ha detto in tutte le vertenze in maniera scientifica tant'è vero l'ultima volta che gli ho sentito dire questa cosa è stata la fondazione Giovanni Paolo II dove ha parlato con gli operatori tutti dicendo che noi non lasceremo nessuno a casa il 20 dicembre il 20 sotto Natale arriva la lettera di licenziamento ai centralisti oltre a portare sfortuna probabilmente la sua affermazione poi però voglio capire tecnicamente come fa a essere vicino ai lavoratori come fa a pensare a parlare di integrazione taglio qui metto là scusa a destra scusa a sinistra senza avere veramente le idee chiare perché il problema è questo non ci sono le idee chiare c'è la mancanza di un progetto complessivo su ogni cosa e quindi gli illusi gli ultimi illusi sono stati i ragazzi dello zuccherificio i compagni e le compagne dello zuccherificio che ricordiamo a tutti non hanno 20 anni e di quello hanno lavorato fino ad oggi poi c'è qualcun altro fortunato che è andato in pensione già da un po' di tempo e ha potuto crescere i figli che magari sono diventati anche personaggio di spicco per il Molise vogliamo dare però l'opportunità a tutti di crescere i figli e magari di diventare personaggi di spicco di questa nostra regione non possiamo pensare che se sono bravi ragazzi volenterosi e capaci li dobbiamo mandare da altre parti a lavorare poi c'è tutto il ragionamento della strategia regionale che io onestamente non capisco l'exi strategy è questo la regione non fa polli la regione non fa zucchero la regione non fa vestiti sì probabilmente è vero però scusate spiegatemi una cosa la regione fa i dati la Molise dati è una società in aus al 100% della regione Molise abbiamo dei responsabili 5 dirigenti se posso aggiungere non fa nemmeno finanza non fa nemmeno finanza fa dati fa dati dati computer che fa i dati non fa nemmeno finanza non fa nemmeno finanza e c'è anche quelli a 100% non fa nemmeno finanza e anche quelli a 100% nel caso della Molise dati che fa proprio i dati compila cioè fa tutta una serie di attività sicuramente importantissime per capire anche l'andamento di questa terra però fa quello di mestiere ha dei responsabili che percepiscono mi quereleranno non fa niente tanto l'hanno già fatto che percepiscono fino a 230.000 euro circa devo ricordarmi di dire circa quando parlo dei soldi ma questa è la somma che circa queste persone prendono in 5 dirigenti in particolare i due della Molise dati fatemi capire una cosa ma può esistere un dirigente di una società in house al 100% della regione Molise sicuramente una società importantissima poi vorrei capire quanto è strategica ma questo è un altro discorso che percepisce 200 e passa 1000 euro e vedere allo stesso nell'altra mano lo zucchero quindi la filiera dello zucchero vedere i lavoratori che cancellano la scritta zuccherificio del Molise e che da domani non sappiamo nemmeno come facciamo con gli ammortizzatori sociali stiamo collegandoci a quello che diceva prima Praetano parlando di sanità anche l'indotto della sanità ma quello è un fatto quello è un fatto assolutamente mi permetto di dire vergognoso di cui non parla nessuno invece forse mi permetto di dire che è un fatto vergognoso all'interno della sanità esiste una struttura la sanità oltre a fare un servizio sanitario per chi ne usufruisce la sanità è il lavoro e non solo per i medici e per gli infermieri o per i portantini ma anche per tutto un altro settore uno spaccato di mondo che ci lavora e ci campa e abbiamo le menze e abbiamo il pulimento e abbiamo il cupo pass e abbiamo le recepcion e abbiamo la vigilanza armata o non armata che sia ma ci rendiamo conto che tra i giochetti i magheggi chiudiamo qua apriamo là ci sono dei posti di lavoro che automaticamente saltano ma può essere che questo non è responsabilità di nessuno pensare che ci sta la seria la concreta possibilità che dei lavoratori non sanno più come portare il pane a casa e seppure fosse vabbè ammettiamo che sono tanti gli ospedali che sono troppi che è stato gestito male ammettiamo che tutto è nero ma tu che stai lì ma mi spieghi se non hai in mente che cosa fargli fare da domani mattina che non sia l'ammortizzatore sociale secco perché i lavoratori hanno la dignità e non vogliono soltanto prendere l'ammortizzatore sociale per stare a casa vogliono essere collocati in un mestiere si sono specializzati noi abbiamo ragazzi specializzati da tanti anni nelle loro attività non possiamo pensare che questo è nulla per chi ci governa e allora mi domando nel momento in cui tu ti sei reso conto hai avuto la percezione scientifica che questa cosa non è più possibile continuarla in questo modo qual è l'alternativa che stai proponendo ma io ho sentito delle cose nello zuccherificio i lavoratori dello zuccherificio riapriamo probabilmente il centro commerciale San Nicola in qualche modo non ho ben capito una follia e li ricollochiamo e poi i lavoratori del centro commerciale San Nicola che facciamo gli facciamo smantellare lo zuccherificio ma per avere un'idea complessiva delle mostruosità che stanno avvenendo in questo momento e questo fa il paio con le situazioni grottesche di cui parlavamo con Luca Praetano anzi prego permettimi ancora di dire due cose sull'indotto della sanità che secondo me è importantissimo su ogni posto letto che viene tolto dobbiamo renderci conto che c'è probabilmente un pasto in meno che verrà fatto e probabilmente a fine di quella giornata ci sarà un cuoco un aiuto cuoco un lavapiatti che non ha avuto la fortuna di chi ha studiato o di chi ha fatto determinate altre scelte o di chi è diventato medico o di chi è amico degli amici è una persona che guadagna il suo stipendio per campare una famiglia e lo fa da tanti anni noi queste persone dobbiamo avere chiaro in mente che sicuramente faremo fatica a ricollocarle di questo se ne deve tener conto poi è chiaro se ne sarebbe dovuto tener conto a quel tavolo che era il tavolo stato-regione dove si davano le deroghe all'unanimità ricordiamo e mancavano soltanto due regioni il Molise e un'altra regione d'Italia e là si sarebbe dovuto effettivamente combattere per fare in modo che certe cose la Basilicata lo diciamo per i nostri telespettatori le ha ottenute le deroghe esattamente la Basilicata per esempio le ha ottenute le deroghe e in Basilicata sicuramente ci saranno tanti altri problemi ma almeno questo in questa fase non ce l'hanno poi per capirci visto che siamo gentili ospiti di questa trasmissione a Termoli mi spiegate che facciamo sul turismo io voglio capire la legge regionale del turismo è una legge che risale al 1978 io ancora non ero nato ma possibile che non c'è nulla che ci viene in mente di poter legiferare per aiutare veramente un settore che ormai è morto e collassato dovrebbe essere invece il motore di questa regione dovrebbe essere il motore di questa regione ma possibile che in quattro anni non c'è stata una sola un solo intervento programmatico col consigliere regionale di Nunzio che ha la delega al turismo e che percepisce pure lui 12-13 mila euro quello che percepiscono loro tutti i mesi non facendo una sola programmazione vera sul mare piuttosto che sulla montagna poi invece ci riempiamo la bocca sul nome del consigliere di Nunzio le devo togliere obbligatoriamente la parola anche perché dovremmo trasformare una trasmissione come dire seria in una trasmissione satirica perché ci sarebbe da sbizzarrirsi e non è il caso è lui assolutamente facevo la battuta proprio per sottolineare l'inconsistenza e l'evanescenza di determinate di determinate figure che poi coincidono spesso con l'inconsistenza e l'evanescenza anche del personale politico ma aperta e chiusa la parentesi torno a Luca Praetano uno degli aspetti centrali della riforma sanitaria innanzitutto le chiedo aiuto per capire una cosa Frattura dice il piano operativo straordinario 2015-2018 è stato approvato risulta che questo piano sia stato approvato con una serie di prescrizioni che potrebbero farlo retrocedere una di queste prescrizioni è l'integrazione cardarelli cattolica doveva essere chiusa al 31 12 2016 poi si è parlato di metà gennaio poi di fine gennaio adesso siamo a metà febbraio si sa ben poco di quello che sta accadendo però il tema uno dei temi centrali sui quali si è tanto dibattuto è questo percorso di integrazione che taluni hanno sostenuto essere un percorso di annessione si sono utilizzati gli argomenti più svariati come la presunta mancanza di staticità dell'ospedale cardarelli o il mancato adeguamento alle norme antisismiche sta di fatto che di questo percorso adesso si è persa un po' traccia ma il forum lo ha studiato lo ha analizzato e lo ha censurato per molti aspetti ecco parliamo di questo aspetto in particolare si riguardo all'integrazione tra il cardarelli e la fondazione come dicevi giustamente era uno degli aspetti delle prescrizioni che di fatto a cui era vincolato l'approvazione del piano abbiamo notizia che il tavolo tecnico di fatto reputa approvato questo piano operativo ma questo a nostro avviso poco importa nel senso che di fatto si sta operando in maniera inversa cioè può anche non essere approvato il piano operativo ma se va avanti l'atto aziendale fondamentalmente noi ci troveremo ad approvare il piano operativo che le cose sono state già fatte cioè l'atto aziendale non è altro che la declinazione operativa di quello che è previsto nel piano operativo quindi ed è questo il momento in cui noi dobbiamo inserirci per evitare che prima venga sbattato tutto e poi ce lo vengono a raccontare insomma questo è il senso rispetto all'integrazione è interessante sono interessanti diverse cose dell'ultimo atto questo del 2 febbraio di questo DCA perché si dice che l'atto aziendale è approvato ma con delle prescrizioni in primis voglio parlare della prescrizione che riguarda appunto questa integrazione perché si parla di un accordo che ci sarebbe tra la fondazione e il cardarelli un accordo di cui non sappiamo nulla motivo per cui proprio questa mattina Antonio Federico in qualità di consigliere regionale ha presentato un accesso agli atti perché vogliamo conoscere che cosa c'è scritto in questo accordo e un'interrogazione al presidente della regione per conoscere che tipo di collaborazione si deve attivare nei confronti del neuromed per le prestazioni di neurochirurgia colgo l'occasione per dirlo per dire che ogni cosa che viene scritta deve essere approfondita assolutamente quello che è certo è che effettivamente non si sa come si voglia realizzare questa benedetta integrazione lo abbiamo incalzato molte volte dice non ci sono ci sta qui è pronta non c'è problema e invece risulta che quello è l'anello su cui tutto può corollare di fatto si parlava addirittura che i fondi non sarebbero stati riconosciuti se non fossero state tutte le prescrizioni che non fossero state rispettate quindi fondamentalmente è un anello importantissimo tra l'altro queste prescrizioni sono richiamate anche dall'accordo in conferenza Stato-Regioni che ha dato se non sbaglio 70 milioni c'è un DCA 52 che ha recepito il verbale della conferenza Stato-Regioni dice appunto questo si recepisce se si prende atto di quello che si è detto nella conferenza nella conferenza c'era scritto che tra le varie cose c'è da realizzare questa integrazione quale sarà l'integrazione non è chiaro io vi dico c'è un amico che mi ricorda sempre un amico che bazzica bene la sanità insomma è uno che sa il fatto suo e mi dice sempre di stare attento perché il diavolo è nei dettagli uno dei dettagli che all'interno di questo DCA 7 del 2 febbraio è che per esempio la Stroke Unit sparisce sia a Termoli che a Isernia il dubbio sorge perché la Stroke Unit fondamentalmente cura che cosa l'ictus quindi in caso di emergenza è necessario intervenire in tempi rapidi perché sennò si rischia insomma di avere dei danni permanenti se non addirittura la morte se sparisce all'Isernia dove va a finire? punto interrogativo e qui si apre quindi quello scenario che qualche tempo fa forse un anno e mezzo fa avevo denunciato a proposito dei 2 milioni e 800 mila euro che la regione molise ha dato al Neuromed per il suo ampliamento probabilmente questi nuovi spazi serviranno per ospitare nuove specialità che verranno accreditate successivamente proprio per far fronte a esigenze della regione e su questo io mi allaccio al discorso della cancellazione dei posti letto guardiamo guardate che il molise aveva la possibilità e questo è inspiegabile aveva la possibilità di conservare un maggior numero di posti letto questa cosa è incomprensibile cioè tutte le regioni fanno di tutto per cercare di stare al limite dei posti disponibili possibili noi invece siamo tenuti largamente al di sotto come a tenerci un tesoretto che non si capisce bene a che cosa servano a chi servano e faccio anche a lei una domanda cattiva perché non rinuncio certamente a questo assist ma all'impressione che il nostro presidente della regione anziché fare il politico faccio il tecnico tuttologo su tutto quindi anche quando parla di sanità oltre che di lavoro si addentra ai meandri in dettagli che alla fine ce lo fanno così apparire un super tecnico di tutte le materie ma è assolutamente assurdo che un super tecnico di tale fatta si perda un po' di posti letto che gli altri ovviamente fanno a pugni per avere e non ha l'impressione che insomma ci sia un po' di presunzione nel nostro presidente guardi io reputo che piuttosto io ho la brutta abitudine di fare il grillino in queste cose diciamo monta in me la dietrologia per cui comincio a pensare che sappia benissimo dove andare a parare probabilmente non è tutto lo rende diciamo un po' offuscato che non si capisca ma fondamentalmente l'obiettivo è più a medio lungo termine non è una cosa che si deve vedere subito magari si vedrà nel futuro quello che voglio dire come diceva Shakespeare c'è del senno in questa follia assolutamente sì io penso ma è inspiegabile nei confronti di cittadini e questa è una cosa che a mio avviso va denunciata non si può dire che i posti letto non ci servono non sono sostenibili perché poi succede voi l'avete raccontato bene qualche giorno fa di una povera l'esperienza di una signora insomma che ha avuto la necessità di andare fuori regione tra l'altro unictus esattamente questa signora non ha trovato posto nella stock unit di Isernia è stata quindi trasferita a Basto ci è arrivata tardi per cui è stata trasferita a Teramo insomma un'odissea ma qual è il risultato il risultato è che questa persona è arrivata dopo sei ore circa a Teramo e non ha avuto le cure di cui aveva bisogno probabilmente porterà dei danni irreversibili e questo è inspiegabile probabilmente se non hanno trovato posto a Isernia è perché non è commisurato il numero dei posti letto non è commisurata l'esigenza di cure che hanno i nostri concittadini e con questo mi ricollego un altro aspetto molto importante quando si parla di Neuromed bisogna stare attenti perché Neuromed e anche in questo bisogna essere onesti intellettualmente è un'eccellenza non lo dice nessuno lo può mettere in discussione il problema è che come giusto che sia come tutti i privati fa del profitto quindi non che fa beneficenza quindi che significa che se gli si dà 35 posti letto a disposizione loro cercheranno di ottenerli occupati quanto più possibile che significa che prenoteranno magari in elezione terranno tantissimi pazienti in modo tale che probabilmente non ci sarà mai posto per i morisani questa è la bufala della mobilità attiva di cui tanto ci si riempie la bocca dice è un bene per i morisani è un bene per i morisani che cosa è bene che ci siano i medici bravi però non è un bene che questi medici bravi non siano mai a disposizione per noi ma siano a disposizione per un bacino di tenza diverso quindi è questo che bisogna tenere in considerazione cioè in effetti i morisani domani mattina il 28 a questo punto per quanto riguarda la neurologia veramente potranno beneficiare dei servizi del neuromed punto interrogativo il tema è questo il primo marzo che succede bene Antonio D'Ambrosio vorrei affrontare con te un tema che apparentemente come dire è fuori dalle questioni di cui trattiamo questa sera lavoro e sanità ma in realtà c'entra in quanto secondo me è indice dell'approccio confusionario col quale si governa qualsiasi cosa in questa regione parliamo di welfare l'approccio confusionario riguarda la sanità riguarda il lavoro come abbiamo detto finora parliamo di welfare perché pochi giorni fa c'è stato un trasferimento di deleghe non si è capito bene se poi è avvenuto non è avvenuto ma lo stesso assessore vicepresidente della giunta Vittorino Facciolla lo ha reso noto per quel che riguarda il welfare che poi è un tema che si innesta sia sul lavoro che sulla sanità ma parlerei dell'aspetto politico lo ha annunciato l'assessore con un suo post sul social network facebook è apparsa lo ha preso direttamente da te io non ho letto l'intervista però è apparsa l'intervista su un quotidiano telematico dove il presidente della regione sembra rimettere in discussione questo aspetto lo ritengo insomma tra presidente e vicepresidente dell'aggiunta regionale è come dire una sorta di cortocircuito ma mi chiedo insomma poi alla fine in mezzo a tutto questo ci sono i cittadini che sono disorientati e non hanno punti di riferimento condividi la mia analisi che ci sia molta confusione molta improvvisazione o come dice Praetano faccio il grillino fai il grillino tu faccio il grillino anch'io e guardacino e dietro ci vediamo qualcosa no ci sono due livelli come dicevo prima ci parli e non capiscono però se sposti l'attenzione sull'interesse capiscono studiano i dettagli se li vanno a vedere hanno una strategia come devo dire non non sono assenti e assente il consiglio regionale questa cosa turba la mente cioè c'è un'operazione di cambiamento totale del sistema sanitario molisano il consiglio regionale non è stato messo a conoscenza se non attraverso come dire i due dei cinque stelle che si stanno muovendo con grande dignità ma nessuno alzi il ditino per dire ma che sta succedendo io sono andato alla conferenza che ha fatto l'astra e ho visto uno stravolgimento completo di un piano attraverso il quale il Molise sarà sperimentale in Italia e avrà una nuova strutturazione il consiglio regionale che è l'organo di programmazione non è stato ne invitato credo che non c'era un consigliere regionale ma non sa assolutamente nulla addirittura deve fare la richiesta l'accessagliati il consigliere io in altri periodi avremmo incendiato il tavolo della giunta e sarebbe diventato cenere ma non ci sono dubbi non si può trincerare dietro vogliamo il lancio delle sedie del compagno di sabato tra l'altro ero io presidente del consiglio non si può trincerare tra il fatto del commissariamento che è un'altra entità cioè è un diritto che in quella sede istituzionale venga data l'informazione e contribuisca in qualche maniera odia dell'indicazione attraverso una programmazione un'esigenza a chi è stato come dire da parte del governo dato l'incarico che è sempre lo stesso presidente della giunta di organizzare la sanità molisana io rimango allibito quindi quando il molise la sua deriva sta qui sta qui dove l'organismo centrale non ha nessuna funzione stanno litigando tra l'altro chi deve fare l'assessore e si sta discutendo che è un'immagine veramente terribile questa che tu hai citato cioè l'assessore vicepresidente vittorino facciola in un post diciamo bello dal punto di vista anche dell'enfasi che in un momento lo vede come dire assumere una responsabilità ulteriore agli incarichi che ha scrive che il presidente bonda sua gli ha dato anche quest'altro incarico e dovrà risolvere un problema l'interesse notevole come tu citavi no? le politiche sociali le politiche sociali in generale tra l'altro il nuovo piano sanità ritornano insieme il socio sanitario che ha una funzione di supporto non voglio dire non di secondario ma se tu pensi tutte le cooperative che gestiscono l'assistenza socio sanitaria se pensi a tutte il volontariato se pensi a tutte le opportunità ma a tutte le carenze che oggi sono della povertà lo dice sempre il Papa perché noi dobbiamo ricordare che qua c'è un messia nel mondo contro questo capitalismo perché se no non capiremmo dove ci troviamo e quello va alla conferenza stata e regione Bonaccini che il presidente dell'Emilia Romagna fa un comunicato di congratulazioni per Vittorino Facciolla che finalmente insomma riabbiamo l'assessore il Molise eccetera e rileggiamo dalla stampa che questo non è vero e lo dice il presidente della giunta anche qui è un metodo che fa un po' insomma non è normale chiamati il tuo vicepresidente e dire giusto il tiro a quella tua comunicato che hai fatto almeno per salvargli la faccia al tuo vicepresidente mica per qualcosa che sta succedendo allora io conoscendo insomma da molto tempo e personalmente Vittorino Facciolla non è uno che scivola su una buccia di banana quindi se lo ha detto insomma lo avrà sentito da qualcuno il problema è che il presidente della giunta non ha fatto nessun atto ora qui c'è anche si soffermiamo troppo nei dettagli se il vicepresidente della giunta può essere delegato verbalmente può essere anche una sua funzione essendo vicepresidente mi sembra un po' una forzatura infatti però in assenza può svolgere sì certo in assenza allora serve l'atto ufficiale e non gli è stato dato non gli è stato concesso però lui ha scritto che il presidente gli aveva dato questa fiducia qui ora ed è un dramma questo è come il dramma che oggi 14 15 doveva spostarsi il reparto di neurochirurgia dal Cardarelli alla Neuromed il presidente della giunta fa un comunicato stampa che dice tutto apposto tutto sistemato anzi i chirurghi che sono lì vandranno in ortopedia e sono pronti a fare gli stessi interventi che facevano prima è una cosa francamente ma dopo un'ora è stato scritto che non era più vero cioè questo disorientamento ecco dove quando dicono non capiscono questo disorientamento è turba io adesso devo confessare due cose una è una battuta per l'amico Gianfranco Vitagliano lo prendo ad esempio lui ha fatto l'assessore alla sanità a Gianfranco Vitagliano e devo dire che se c'è stato dopo Peppastore un piano di riordino della sanità ha fatto Gianfranco Vitagliano ma lo dico senza ironia a me mi aveva convinto anche con la come dire dalla mia parte politica di sta attento sta attento va bene stavamo attenti però oggettivamente però poi ho capito dove si allatta di furbizio lo scrivevano i piani per Roma li prendevano per fessa quelli di Roma e qua facevano tutta quell'altra cosa che non non c'entrava niente proprio di quelli che avevano scritto continuavano allegramente a gestire la sanità come la fabbrica del consenso di voti non della salute della fabbrica della salute però scrivevano dei piani straordinari che è la prima volta che sono rimasto veramente questi stanno più avanti di noi noi non avremmo avuto quel coraggio perché pensavamo una cosa più moderata nel tempo di lui Gianfranco si era così immedesimato in questo ruolo che studiava perché è una persona che studia Gianfranco l'italiano che a un certo punto lo dico con ironia ho visto la vostra battuta prima che ha visto un collega consigliere regionale l'ha chiamato addirittura gli ha prescritto una ricetta perché secondo lui non stava bene perché aveva studiato troppo e io credo che il presidente Frattura sia arrivata a questa forma e lo dico anche con ragione vedute perché proprio in quel giorno della presentazione dei piani operativi della sanità abbiamo avuto occasione di prendere il caffè insieme ad altri eccetera di cui io ho espresso alcuni miei dubbi e perplessità e quelle che sto dicendo adesso io lo dico anche a loro e diceva beh io ho detto ma io studio ho voluto far capire io studio lavoro sì non metti in dubbio anzi si vede che studia che lavora anzi forse faresti meglio a non studiare troppo e dice però noi non abbiamo bisogno di un direttore generale noi abbiamo bisogno di un presidente della giunta che è un'altra cosa è uno che governa i processi complessi e se no noi siamo privi rispetto alla scelta non che ci spiega che ci si può trasferire a ortopedia bravi fai la ricetta ci fai la ricetta noi veniamo a visitarci da te facci pure la ricetta e chiudiamo sta partita ecco dove sta il limite e chiudo perché mi interessa Luca adesso in campo un aspetto che io lo ritengo drammatico perché Pasquale si parlava della chiusura senza una strategia di uscita si chiude noi non facciamo i polli chiudiamo che è sta storia chiuso il migliore acquirente poi sono dei provincialotti perché arriva uno che è una società da 20.000 euro e sembra che sia Amadori ma quella è una società che c'è un capitale di 20.000 euro non è Amadori ma che state dicendo cioè che state dicendo quella è una società di 20.000 euro e la facciamo fare noi cinque noi quattro qui lo possiamo fare domani mattina e andare lì solo che si presenta dell'Amadori ma quella è una altra storia cioè io starei attento a queste cose no? e allora la dismissione chiudiamo la fabbrica facciamo perdere il suo valore aggiunto vendiamo il marchio la pizzeria potremmo comprarcelo noi almeno un prodotto molisano l'avremmo venduto con quel marchio Arena per quel prezzo avremmo venduto mozzarella bufo tutto di qualità svendiamo tutto si arrugginisce tutto e dice adesso l'impegno nostro non lasciamo indietro nessuno quando dice il presidente è che utilizza gli ammortizzatori sociali previste dalla legge e che ci può raccontare queste storie voglio dire è la legge nazionale che prevede questo e allora la stessa metodologia è applicata alla sanità questo è il dramma che ci troviamo di fronte la stessa metodologia di questo dobbiamo essere spaventati chiusa la fabbrica e vediamo adesso chi se la come chiuso l'ospedale non c'è niente c'è il vuoto cioè dobbiamo dire a questo punto attraverso l'ipotesi del decreto Balduzzi siamo e io ho una risposta anche per Luca un'ipotesi che dice Luca Balduzzi ci fa chiudere quello che ci fa chiudere non eravamo presenti di fatto quindi alcuni servizi vanno a quegli istituti privati che hanno quella funzione per fortuna dobbiamo dire allora o era stato pensato ecco ok no no devo dire un'altra cosa scusi Pasquale prendo un minuto poi votaccio quindi è stato pensato o è per fortuna che abbiamo quelli due istituti privati che è convenzionata la fondazione e la Neuroment che è un'eccellenza non dimentichiamoci che sono due cose diverse e così come è la fondazione allora per fortuna o è stato pensato è una risposta che i cittadini devono sapere perché posso essere anche d'accordo però io lo devo sapere nel contempo però a queste due strutture sono state tolte anche a loro i posti letto è per far vedere forse che isoliamo al privato e al pubblico non lo so quando si dovranno fare nel territorio gli ospedali di comunità e le case della salute che al centro ci sono gli infermieri con tutto voglio dire l'apprezzamento per quel lavoro per quella professionità ma non sono medici io credo e non sappiamo con quali soldi verranno investiti per gestire queste case della salute o di comunità noi non sappiamo che là non ce l'hanno detto i finanziamenti per queste strutture nel territorio che è una buona idea sperimentale tutto sommato poi altri poggiano sui medici e questi poggiano sugli infermieri non hanno convocato i medici di base quel del 118 insomma hanno fatto una cosa un po' di nicchia però non sapendo come vengono investiti adesso non c'è niente chiudiamo gli ospedali e i posti letti sono stati ridotti a quegli altri cosa aumenta? la mobilità passiva la gente se ne va a curare fuori pertanto quello che immaginavo di risparmiare con le case della salute 139 euro pro capito il ricovero invece delle 1000 euro dall'ospedale noi la diamo a dare alle regioni fuori perché i due ospedali che dicevamo o per opportunità o per furbizia non si è andato quel giorno lì a Roma non sono in grado di ricevere il nuovo plus e quindi lo studio epidemiologico per fare questa nuova struttura non è stata fatta ma è stata fatta sulla carta quello studio chiuso 4 persone e hanno riproposto una struttura pari pari a quella delle industrie sulla sanità ecco allo spavento questo sulla stanza con 4 persone torneremo a parlare in futuro ne abbiamo parlato nella puntata precedente quando abbiamo parlato di sinistra radioattiva una sinistra che non si vede che però come la radioattività agisce e consuma ci fermiamo un attimo per la pubblicità poi torniamo in studio bene eccoci di nuovo in studio terza ed ultima parte di Millibar stiamo discutendo di lavoro e sanità due pilastri di qualsiasi consesso umano di qualsiasi società due pilastri che stanno crollando e con essi il Molise Pasquale Guarracino da qui a un anno si tornerà al voto la disamina dell'attuale compagine in consiglio regionale è negativa sotto tutti gli aspetti è chiaro che il sindacato da qui a un anno dovrà avere altri interlocutori che cosa ho spiegato ma intanto quello che ho spiegato legato all'ultimo scorcio di questo fine mandato di questo governo regionale che io personalmente reputo il peggior governo regionale di tutti i tempi intanto ci auspichiamo di vedere alcune cose prendere forma l'area di crisi è essenziale per fare alcune cose sempre al netto di un progetto cioè se c'è un progetto se c'è un'idea di massima una logica su che cosa vogliamo fare in questa regione forse l'area di crisi ci può dare una mano PSR che mi sembrava fino a poco tempo fa essere il toccasana per il rilancio regionale nemmeno quello è stato però potrebbe essere insomma quello che davvero crediamo è che se i tecnici facessero bene il loro mestiere per quanto sono ben pagati e la politica soprattutto potesse dare finalmente indirizzi certi forse un percorso di fine mandato ma non per forza di fine mandato cioè saremmo ben attenti almeno noi della Will di essere strumentalizzati in fine mandato per poi ricominciare con la prossima campagna elettorale no noi abbiamo degli appuntamenti ormai dove siamo in ritardo in ritardissimo come l'area di crisi mi sembra un conquista nostra di tutti cioè che poi conquista vediamola bene con le pinze l'area di crisi è uno strumento che ti aiuta è uno strumento che ti dà la possibilità di avere fondi nazionali ma è il consolidamento di un fallimento non sei riuscito a fare talmente niente che hai la necessità di dichiarare questa area questa zona del Molise in crisi ed è successo sull'asse Boiano Campochiaro Boiano di Sernia Venafro e adesso quella non complessa sembra prendere corpo proprio qui nel Termonese quindi abbiamo definito il giusto quadro di quello che insomma è stato il nostro governo regionale sicuramente che proviene dal passato lo diciamo ancora una volta ma che poi non ha saputo trovare le soluzioni e cadiamo nell'unica forse adesso vera speranza che possiamo avere area di crisi che anche qui o i tecnici o l'incapacità gestionale o l'emozione di fare una cosa che è grande sta andando nella maniera che noi non speravamo e cioè lenta e cioè dove tutta una serie di argomentazioni di documentazioni mancano ancora dove tutta una serie di cose ancora non si sono fatte e questo è un altro risultato della classe politica regionale che come diceva bene il presidente D'Ambrosio invece di bruciare i banchi probabilmente non chiede nemmeno scusate ma a che punto siamo qua della nostra cioè io li vedo io a volte vado per ovvi motivi di lavoro ma io li vedo proprio intimoriti cioè c'è il timore di dover chiedere scusa ma come stai stamattina che stai dicendo rispetto a tutta una serie di cose io vedo che proprio c'è imbarazzo in qualche caso però tutto è a discapito loro perché quest'ultimo anno io non mi aspetto davvero che in quest'ultimo anno i componenti dell'attuale consiglio regionale possano venire a raccontare che vogliono risolvere il problema lavoro perché se no in Molise può succedere qualche cosa di spiacevole cioè la tenuta sociale la tenuta sociale cioè può succedere io non voglio è una caldaia che può esplodere io non voglio per l'amor di Dio noi siamo sereni nel fare il nostro mestiere però la gente ha fame la gente è disperata la gente è senza gli ammortizzatori sociali o ha solo quelli per campare la gente è in seria difficoltà è il caso che qualcuno se ne accorga prima di me perché quando ce ne accorgiamo noi vuol dire che insomma qualche cosa è successo auspichiamo questo lo auspichiamo chiediamo ma lo chiediamo fermamente a noi alla nostra regione a chi ci governa alla popolazione molisana tutta darci una svegliata in tutti i sensi ognuno per le proprie competenze chi ha più colpe e chi ha meno colpe di fare delle cose che possano veramente ricominciare a far parlare di lavoro è che con questo richiamo praticamente è la campana dell'ultimo giro quella che sta suonando ma molto probabilmente è una campana che suona già morto Luca Praetano a proposito di cose morte la battaglia per la sanità è una battaglia persa? assolutamente no io sono qua appositamente perché ritengo che la battaglia sia ancora aperta ancora non è successo nulla si sta operando una serie di compiamenti ci si sta provando ma noi dobbiamo resistere è la parola d'ordine dobbiamo resistere e realizzare il bene per i cittadini molisani non riteniamo che la cura frattura sia una cura utile alla cittadinanza molisana noi dobbiamo resistere abbiamo l'unico scopo che abbiamo è quello di cercare di arrivare a nuova a nuova legislatura con forze politiche che possano garantire finalmente veramente le cure ai cittadini molisani quindi mai arrendersi se dovessimo io non credo che Morise sia finito io non lo credo assolutamente altrimenti mi dimetterei come consigliere comunale mi dimetterei smetterei ogni tipo di attività che faccio insomma con sacrificio ma anche con tanta passione perché a quel punto riterrei inutile invece io credo che si debba essere ancora di più noi dobbiamo essere di più cioè le persone che sono scontente devono cominciare a tirare fuori gli artigli devono cominciare a partecipare ad aggregarsi e a dimostrare questo loro dissenso di fronte a una classe politica con cui non si può collaborare perché è arrogante e non ti ascolta condivido assolutamente quello che diceva prima Antonio a proposito di questa di questo metodo sbagliato le riunioni in sanità e in questo invece dissento ci sono state ma sono state semplicemente una come dire dei copizi si andava lì a rappresentare quello che era quello che sarebbe divenuto poi il futuro della sanità molisana non si era lì per recepire per collaborare per trovare insomma la ricetta giusta si era lì semplicemente per dire abbiamo deciso questo se vi sta bene bene se no comunque andiamo avanti per la nostra strada quindi fondamentalmente con questo di atteggiamento è impossibile riuscire a interloquire ed è chiaro che l'unica cosa da fare è quella di porsi in netto contrasto con tutti i metodi Antonio D'Ambrosio allora il Molise è finito questo è il tema della nostra trasmissione magari saremo meno come dire assertivi poniamoci un punto interrogativo il Molise è finito e questo vedremo come andrà a finire faccio una considerazione con la sola eccezione del presidente della giunta regionale che chiaramente lo hanno eletto tra i molisani i cittadini e gli elettori è un molisano il resto per esempio per quel che riguarda la sanità il direttore generale il subcommissario il direttore generale della salute il direttore amministrativo il direttore sanitario dell'asrem sono tutte figure che vengono da fuori regione allora la domanda che mi faccio il Molise se non è finito per quello che riguarda le battaglie è senza dubbio per questo aspetto finito per quello che riguarda il personale tecnico dirigenziale questa è una considerazione da fare perché poi chi mette le mani nelle cose sono i tecnici anche questo sembra diventato un problema oltre al problema della politica ti chiedo di essere succinto nella tua risposta no qui si evidenzia al di là al netto dalle persone che io non è una questione personale oltretutto non ho avuto nemmeno il piacere di conoscere tra le altre cose se non il dottor Forsiniti di cui nutro una stima per le cose che ha fatto come si è diventato come si è portato anche sotto il profilo della consapevolezza io credo che questo rientri in quelle notazioni che facciamo sempre sulla regione se è finito o meno quando una regione non produce più classe dirigente no e o quando quella classe dirigente è costretta ad andare fuori perciò io mi sono complimentato con loro che stanno ancora qua la loro giovane età è una risorsa ma se sono costretto ad andarsene fuori è una regione che quando lo produce non trattiene le sue intelligenze è morta è inutile che ci giriamo attorno capito è morta la sua economia è morta l'intelligenza allora la preoccupazione seria c'è Luca lancia una speranza e anche io sono perché si intravede una luce da qualche parte c'è vedo di come dire un salto generazionale quello c'è l'ho notato in molte assemblee che abbiamo fatto in cose dove io ho partecipato al forum a riunione per i comitati vari cioè la democrazia diretta ha risuscitato nuove generazioni nuove energie questo è un fatto positivo che sono emerse nella nostra regione però la generazione dopo la mia è scomparsa ed è un vuoto cosmico che consente e ha consentito una selezione di questa classe dirigente in generale vado a vedere cioè non guardiamo sempre solo frattura perché se no sbaglieremo il consiglio regionale ha una funzione straordinaria che non viene esercitata quella legislativa è lì quella programmazione è legislativa quando tu rinuncia a questi due presupposti tu stai facendo morire la regione non ci sono dubbi la regione è morta insomma quelle sono le sue funzioni non l'interrogazione l'ordine del giorno le cose che hanno pure loro un valore però non è questo il pilastro che regge la funzione del consiglio regionale ma sono la programmazione il bilancio e il legislativo su queste tre attività nemmeno la giunta né la maggioranza perché capiscono l'opposizione le minoranze si fanno pure portatori ma non trova percorso spesso quindi abbiamo una rappresentazione di una regione priva di classe dirigente però c'è quella speranza che si diceva prima di una nuova generazione che è fermento e fa fermento io sono fiduciato sotto questo profilo però il vuoto affinché quella generazione andrà al potere sarà l'anno 21 ce lo dobbiamo augurare speriamo ma siccome ci sono l'aria di crisi ci sono 727 milioni di euro da spendere se questi soldi vengono immessi nella nostra regione e non vengono immessi secondo una programmazione perché non sarà il Consiglio regionale a programmarlo ma saranno come dire la giunta o qualche piccola elite che compartecipa a questa programmazione quei soldi servono per il consenso non c'è più la sanità per il consenso ma servono quei soldi per il consenso e lì siamo morti veramente se invece quei soldi la nuova generazione che vincerà se vincerà la campagna elettorale serve per il molisse il molisse ha prospettivo l'ultima domanda che voglio chiedere ai nostri telespettatori riguarda la sanità cioè l'interrogativo che dobbiamo porci ed è stata fatta una riunione l'ha fatta la giunta regionale per la verità insieme ai sindaci quindi bisogna dare atto che le strade i comuni del molisse non c'è più accesso le trasversali per scendere a Valla la Trignina e la Bifernina allora è un fatto di mobilità di economia ma rapportata alla sanità i lea sono garantiti se non può arrivare l'ambulanza a Monte Falcone a San Felice è garantito se non può arrivare in un altro comune a Cerce Maggiore o qualche altro comune l'ambulanza o il soccorso del 118 non voglio dire sulla struttura che va studiata ancora che hanno in animo di fare ma con una situazione così i lea il livello essenziale di assistenza per la sanità per i cittadini è garantito io dico di no con questo interrogativo al quale probabilmente la regione intende rispondere ad Antonio D'Ambrosio con metropolitane leggere perché questa è la contraddizione le strade sono disastrate e sono disastrate a tal punto da mettere in seria discussione se non con certezza la garanzia dei livelli essenziali di assistenza che è la base che un sistema politico istituzionale per quel che riguarda la sanità deve garantire ai cittadini mentre il Molise frana le strade crollano si smantella il lavoro si smantella la sanità questa regione pensa alle metropolitane leggere il progetto è approvato ci sono dei lavori in corso che collegheranno con tutto il rispetto per i cittadini di Matrice e per quelli di Boiano un tratto del Molise che non è ben comprensibile perché sia stato scelto in quella direzione se non in direzione opposta e avrebbe avuto un senso cioè verso le infrastrutture quindi verso la ferrovia verso l'autostrada che sono sulla costa la regione pensa a tutto questo fa parte di quel sistema di contraddizioni che credo qui questa sera a Millibar siamo riusciti ad evidenziare parlando di lavoro e parlando di sanità e ponendoci un interrogativo se il Molise sia effettivamente finito oppure come hanno detto i nostri tre interlocutori che ringrazio Pasquale Guarracino della UIL Luca Praitano del Movimento 5 Stelle e il nostro compagno di viaggio Antonio D'Ambrosio come hanno detto c'è una speranza una luce per il futuro rappresentata da un salto generazionale e da una nuova classe di governo che tra qui a un anno riusciremo a capire se potrà effettivamente dare una svolta a questo nostro Molise Millibar finisce qui torniamo mercoledì prossimo alle ore 21 in replica come di consueto il giovedì alle ore 16 da Alessandro Nardella in regia e da me buonanotte e buona fortuna e buonanotte e buonanotte a buonanotte a buonanotte e buonanotte